Buongiorno, mi chiamo Bernardina Tavella, sono la responsabile nazionale del servizio civile. Oggi sono in Calabria con i colleghi della Giunta per affermare e soprattutto ribadire la grande forza che è la Calabria per quanto riguarda i giovani e il servizio civile, il grande sviluppo che è stato fatto in questi anni e soprattutto la capacità che si è avuto di rinnovarsi, cambiare veste, ma soprattutto quella di mantenere stabili quelle che sono le tradizioni e le culture di questo luogo meraviglioso. Sicuramente gli operatori locali di progetto hanno fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, abbiamo avuto dei riscontri molto positivi negli anni, ma soprattutto anche quest'anno abbiamo sentito tantissimi ragazzi che hanno concluso il servizio civile all'interno delle vostre proloco e hanno dimostrato molta soddisfazione e attenzione, ma soprattutto ci hanno comunicato quanto è stato per loro operare insieme a persone di età diverse e alcuni molto più grandi di loro che hanno saputo trasmettergli quelle che sono la cura, l'attenzione del luogo, l'amore per la propria terra e soprattutto la voglia di tornare, anche quelli che studiano fuori dalla regione, tornare e iniziare a investire sulla propria regione. E quindi anche questa prospettiva di rientro e di far crescere la Calabria.